Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Che l'obiettivo primario del Milan sia il difensore è cosa nota. Si è parlato a lungo di Nicola Milenkovic, giocatore serbo della Fiorentina, ma che la Fiorentina è il presidente e patron commisso, valuta molto molto alto. Quindi il Milan sta valutando le alternative concrete, sta valutando Wesley Fofana, giocatore francese in forza al Sant'Etienne classe 2000. Un ragazzo nato il 17 dicembre del 2000, un giocatore alto 1,90, giocatore che ha il contratto di scadenza il 30 giugno 2024. Per questo giocatore c'è un interesse reale, un interesse concreto da parte del Milan e la dirigenza e l'area tecnica avrebbero individuato in Wesley Fofana il rinforzo ideale per il reparto difensivo. Si sono arenate le altre piste inglesi per quanto riguarda Wesley Fofana, sì perché il Leicester avrebbe offerto 30 milioni di euro, ma il giocatore avrebbe rifiutato, secondo nostre fonti, l'indiscrezione. Quindi Wesley Fofana che al momento ha, pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ha rifiutato il Leicester, ha rifiutato quindi la Premier League al momento e quindi il Milan potrebbe tornare in corsa. Ma c'è un problema, il mercato del Milan è condizionato, possiamo dire, dall'Arsenal. Perché vi starete chiedendo voi è condizionato all'Arsenal? Come sempre il Milan vuole provare a cedere Lucas Paquetà. Lucas Paquetà che il Milan valuta intorno ai 23 milioni di euro, su Paquetà c'è l'interesse del Lione, ma il Lione per acquistare Paquetà anche con un prestito, con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione Champions League, questa sarebbe la formula che vorrebbe adottare il Lione per acquistare Lucas Paquetà, una formula molto simile a quella utilizzata dal Siviglia per acquistare Suso, però il Lione prima di fare questa operazione di diritto di riscatto vuole cedere Awar. Awar che interessa proprio all'Arsenal. La richiesta di Lione per Awar, giocatore molto forte, molto talentuoso, è di circa 50 milioni di euro, mentre l'Arsenal in questo momento starebbe temporeggiando e starebbe offrendo 40 milioni di euro. Quindi c'è una differenza di 10 milioni di euro, una differenza che può essere colmata, può essere colmabile con degli importanti bonus. Quindi Lione intende far cassa con i soldi di Awar e poi investire con diritto di riscatto proprio sul calciatore del Milan, Lucas Paquetà. Il Milan avrebbe la liquidità disponibile per fare un importante colpo e sarebbe proprio Wesley Fofanà il candidato ideale, principale, per rinforzare la difesa rossonera. Pioli vorrebbe, come già anticipato varie volte, in vari video, vorrebbe un difensore che abbia già esperienza nel campionato di Serie A. Però le relazioni di Wesley Fofanà, anche dello scouting rosso-nero, anche di Goffrey Moncada, che ha stato tanti anni in Francia, hanno spinto l'allenatore italiano Stefano Pioli a dire ok, perché il profilo è un profilo del tutto molto interessante. È un giocatore che gioca la centrale sia a destra che a sinistra, a differenza di Nastasic. È un giocatore che ha grande atletismo, è un giocatore che ha grande resistenza, un giocatore che è molto forte nell'uno contro uno, è difficile saltare, viene difficilmente saltato. È un giocatore molto forte fisicamente, abbiamo detto che è alto 1,90, è un giocatore che legge molto l'azione, è un giocatore forte nell'anticipo, è un giocatore che regge gli urti e le spallate, è un giocatore che fa dalla fisicità, dalla velocità, il suo forte. È un giocatore che è molto coraggioso negli interventi, è un giocatore anche che ha grande troppa forza, dicono gli adatti ai lavori, tanta tanta personalità, che all'interno dello spogliatoio rosso-nero, finalmente con Zlatan Ibrahimovic, finalmente con Simon Kier, abbiamo. Quindi il Milan, il calcio mercato del Milan, dipende dall'Arsenal in qualche modo sì, perché se l'Arsenal acquista Awar, il Lione si fionda su Pacchietà, e il Milan può fare il colpo in difesa. Con un nome su tutti, Wesley Fofana, il giocatore prescelto dall'area tecnica rossonera per rinforzare la difesa milanista. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.